Grande festa ieri sera a Trento, con l'abbraccio dei tifosi all'Aquila Basket di ritorno da Milano dopo lo scudetto sfumato venerdì con la squadra di coach Buscaglia per la seconda volta vice campione d'Italia e Dustin Hogue e Dominic Sutton che avrebbero espresso la volontà di restare a Trento l'anno prossimo.